Ho la fortuna direi di avere questa passione del camminare e questo mi porta secondo l'articolo 1 dello statuto del CAI proprio a cercare di divulgarla, sto bene, cerco, penso che anche gli altri poi facendo questo tipo di attività stiano bene. L'altro anno è nato un corso che è proseguito per un periodo temporale di tre anni tra incontri propedeutici e corso vero e proprio di Toscani ed Emiliano Romagnoli. Sappiamo benissimo che questo appennino tutto sommato divide l'Italia proprio qui sotto di noi da Rimini a Viareggio tra nord e sud in qualche modo, è stata una barriera sempre, è stata una barriera purtroppo anche durante l'ultima guerra, eravamo Toscani ed Emiliano Romagnoli allora è nato così un po' per caso quest'idea dell'appennino che divide ma unisce anche no ed è stato proposto, è stato accettato con entusiasmo da questi ragazzi eccezionali che direi che ho avuto la fortuna di avere al corso e hanno cominciato a lavorarci, a lavorarci come? Noi ci occupiamo di escursionismo proponendo delle escursioni che valicano questo crinale che uniscono proprio il Toscano con l'Emiliano o viceversa, no? Sono 39 e 39 sono poi gli itinerari che qua sono descritti, uno spirito di piacere, di entusiasmo, di utilizzare al meglio la fortuna che abbiamo noi che è avere del tempo libero, non ce l'hanno mica tutti, ecco questo mi interessa dirlo, inevitabile che durante la ricerca esca la storia, la storia importantissima che c'è sull'appennino, proprio l'appennino è zeppo di storia, noi intendiamo molto spesso il club alpino per esempio come club delle Alpi, no? In realtà il club alpino si occupa di montagna in generale e non solo di montagna perché si occupa soprattutto del camminare, del guardarsi attorno, dell'apprezzare, cioè il passo non deve mai essere troppo veloce che non permette di avere interazione con l'ambiente attorno, è importantissimo, ognuno avrà pure il suo passo ma l'interazione ci deve essere, ci deve essere e deve essere sufficiente per apprezzare le cose che abbiamo attorno. Siamo partiti da Comacchio, c'erano le valli, ci sono i fenicotteri, noi dobbiamo vederli, cioè lo sguardo non deve mai andare a terra, ecco questo è un po' quello, che cosa ne deriva? Che i sensi ci danno delle emozioni, noi siamo abituati a correre, a correre, a correre perché? Perché il nostro viaggio è normalmente andare da un punto ad un altro, la vita che facciamo è questa. Nel tempo libero cerchiamo di, per quanto possibile, di rallentare un pochino, ecco, il consiglio che viene dato in maniera spassionata è proprio questo, come un altro consiglio che viene dato è quello di cercare di usare tutti e cinque i sensi, qualche volta anche il sesto che noi usiamo dire il buon senso, no? Ecco, questo abbiamo cercato di fare. È stata un'occasione direi proprio eccezionale che ci ha migliorato e ci ha arricchito perché gli stimoli che sono venuti dagli cosiddetti allievi sono stati tanti, noi abbiamo dovuto rielaborarli, sistemarli, eccetera, eccetera, è stato un lavoro d'accordo, impegnativo, ma entusiasmante, insomma. Grazie a tutti.